Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, oggi è martedì 25 giugno 2013 e questa è una pagina del quotidiano torinese La Stampa Odierno e leggendo questa pagina ho conosciuto i nuovi palinsesti della RAI i nuovi palinsesti della RAI cari amici, per cui sono tanto contento, tutti i palinsesti RAI 1, RAI 2, RAI 3 RAI 3, nel prime time che tempo che fa mantiene la formula short del sabato sera ma si allungherà nella domenica in una inedita prima serata dalle 20.10 fino alle 22.30 in tutti e due i casi riconfermata la presenza di Massimo Gramellini allora io so che la vigilanza RAI è preceduta dai 5 stelle per cui io raccomando ai 5 stelle di non interferire sul palinsesto di che tempo che fa perché è stato confermato, il palinsesto è stato confermato a Fabio Fazio, a Luciana Littizzetto e a Massimo Gramellini, i 5 stelle non interferiscano, mi raccomando non interferiscano perché anche se i 5 stelle hanno avuto il 25% dei voti di coloro che sono andati a votare non c'è fra i 5 stelle un giornalista che possa sostituire Massimo Gramellini e si deve fare in modo che Massimo Gramellini continui a lavorare nella trasmissione di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto e possa continuamente mostrare altri nuovi eventuali libri che Massimo Gramellini scriverà dopo che ha pubblicizzato a che tempo che fa il suo ultimo libro intitolato fa i bei sogni, quindi il Movimento 5 stelle, benché abbia avuto il 25% di coloro che sono andati a votare alle elezioni politiche, non ce l'ha ancora un giornalista che possa sostituirsi a Massimo Gramellini per cui il Movimento 5 stelle non interferisca nell'organigramma di che tempo che fa si lasci sempre che la trasmissione venga condotta da Fabio Fazio accompagnato da Luciana Littizzetto che è pagata per far ridere gli italiani e in questo periodo di crisi gli italiani devono ridere e sembra che gli italiani siano tanto affezionati a Luciana Littizzetto che gli fa ridere tanto tanto gli italiani, capito? però anche Massimo Gramellini è pressoché insostituibile d'accordo? Mi raccomando 5 stelle che non abbiate voi nulla da dire nei confronti di che tempo che fa nei confronti di Fabio Fazio nei confronti di Luciana Littizzetto e nei confronti di Massimo Gramellini voi non riuscirete mai a trovare cari 5 stelle tra i vostri elettori un giornalista, un intellettuale o chi volete voi che possa sostituire Massimo Gramellini capito? Mi raccomando 5 stelle non fatevi vedere certe idee per il fatto che adesso avete la presidenza della commissione di vigilanza sulla Rai TV mi raccomando, mi raccomando niente turnover a che tempo che fa niente turnover ormai i palinsesti sono stati fissati e non sono più da cambiare ok? va bene cari amici sono tanto felice oggi dopo che ho letto che ho letto i nuovi palinsesti della Rai Rai 1, Rai 2, Rai 3 e specialmente a che tempo che fa con Fabio Fazio Lucena Littizzetto e il pregiato giornalista Massimo Gramellini va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massimo Gramellini